Si è svolto questa mattina a Sulmona presso la Sala Convegni del Parco Nazionale della Maiella un interessante evento per la Festa dell'Europa, Anno Europeo delle Competenze. Tanti gli interventi in sala e in modalità online dei qualificati relatori, con Commissione Europea, Parlamento Europeo e Ampal da remoto, moderati dal giornalista Roberto Della Rocca e dalla responsabile Europe Direct Maiella, Gabriella Spina. Oggi è festa qui all'Enteparco Nazionale della Maiella, celebriamo la Festa dell'Europa che si è tenuta ieri 9 maggio e prevederà diversi eventi in tutta Italia, in tutti i centri Europe Direct. Il Centro Europe Direct Maiella promuove la Festa dell'Europa attraverso l'Anno Europeo delle Competenze, lanciato proprio ieri dalla Commissione Europea, quindi dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea, e oggi vedremo l'Anno Europeo delle Competenze con un focus sulla formazione digitale, le opportunità per i giovani e siamo veramente felici di vedere una sala gremita di studenti, di giovani, di inoccupati, disoccupati, ansiosi di conoscere le opportunità a loro dedicate. All'interno della sala anche i giovani studenti dell'Istituto Superiore Ovidio, del Liceo Scientifico Einstein e dell'Istituto Tecnico Economico Settore Turistico. Ovviamente presenti la Regione Abruzzo con il dirigente Dipartimento Innovazione Fabrizio Pieri e il primo cittadino della città ovidiana Gianfranco Di Piero, che ha fatto gli onori di casa aprendo i lavori con i suoi saluti istituzionali. Bene, la Regione Abruzzo ha accettato questo invito da parte del Europe Direct Maiella, abbiamo parlato principalmente della parte formativa, grazie anche al Dipartimento Lavoro che mi ha fornito alcune informazioni sul programma Goal e abbiamo parlato anche della parte di innovazione tecnologica, soprattutto per i giovani che si sono affacciati oggi in questo evento. È un privilegio e un onore accogliere questo evento che si pone appunto in occasione di una ricorrenza importante e pone temi di assoluta rilevanza, quale è quello dell'attualità dell'Europa, l'importanza appunto del cammino che fu intrapreso all'epoca per la costruzione di una grande patria europea, alla quale noi dobbiamo sempre richiamarci, per le grandi opportunità che vengono da questa istituzione. L'evento di oggi è promosso dall'Europe Direct, che è un ufficio quindi che è qui situato a Sulmona ed è soprattutto dedicato ai giovani, volti all'orientamento dei giovani nei confronti delle provvidenze che possono venire dall'Europa e quindi diventa anche una grande opportunità sia dal punto di vista formativo sia dal punto di vista informativo.